Capita anche a te di guardarti allo specchio e non piacerti? Il tuo look ti soddisfa al 100%? Oppure anche tu credi di avere mille difetti e quando sei davanti allo specchio con i tuoi trucchi e con i tuoi pennelli non sai proprio cosa fare? Sei una professionista, un'imprenditrice ed il tuo ruolo ti impone uno stile ed un look specifico? Sappi che la nostra immagine comunica, il nostro interlocutore si fa un'idea di noi nei primi 7 secondi. Oppure sei una donna che ha voglia di imparare a valorizzarsi per piacere e per piacersi? Bene, sei nel posto giusto. Sono Loredana Cossu, la tua look maker o se preferisci consulente d'immagine. Valorizzo la tua bellezza attraverso make-up, capelli, abiti ed accessori. A soli 17 anni già curavo il look delle mie amiche quando ci preparavamo la sera per andare in discoteca. E non avrei mai immaginato che la mia passione sarebbe diventata il mio mestiere. Ho iniziato lavorando nel salone di mia madre, poi mi sono specializzata come truccatrice e mi sono accorta che c'era qualcosa che mancava. Per rendere belle, veramente belle le mie clienti, dovevo aggiungere qualcos'altro. Che cos'era che mancava? Così iniziai a cercare, a studiare e mi resi conto che dovevo assolutamente specializzarmi per diventare look maker. Mi occupo della tua bellezza a 360 gradi. Spesso mi capita di ascoltare le mie clienti e di rendermi conto che il giudizio che hanno di loro non è aggettivo. Ti insegnerò come fare a scoprire e valutare quali sono le tue caratteristiche, ad individuare i tuoi punti di forza e a valorizzarli. Oggi posso affermare di aver messo a punto un metodo semplice ed efficace, che ti consente, attraverso le giuste strategie, di valorizzarti al massimo e di ottenere l'obiettivo d'immagine che tu desideri. Lasciami la tua email nel form qui sotto e ti invierò tre video gratuiti nei quali ti spiegherò quali sono le strategie da mettere subito in pratica per ottenere i tuoi risultati d'immagine. Nel primo video scoprirai qual è la tua immagine attuale e quali sono i colori che ti valorizzano. Nel secondo video imparerai qual è la forma del tuo viso e come valorizzarla attraverso il make-up e il giusto taglio di capelli. Nel terzo video ti insegnerò a riconoscere le tue forme, a valorizzare la tua silhouette attraverso l'utilizzo degli abiti e degli accessori giusti per te. Ciao, ci vediamo nel prossimo video! Ciao!